Ciao a tutti, ormai è circa un annetto che mi vedete parlare di vasi di piante, quindi mi sembra corretto presentarmi. Mi chiamo Alberto e mi occupo della cura del verde da svariati anni. Con cura del verde intendo dalla progettazione alla realizzazione di terrazzi, giardini e di qualsiasi altra cosa possa essere inerente all'outdoor delle vostre abitazioni. Appunto da circa un annetto in collaborazione con Garden Italia Vasi, produttore di vasi in rotazionale che ormai conosco da più di dieci anni, creiamo dei video sul nostro canale YouTube nel quale spieghiamo in maniera semplice ed esaustiva come avvicinarsi al mondo green dei vostri spazi verdi, ovvero sono dei video corti o un po' più lunghi dove spieghiamo come abbinare il modello di vaso alla pianta giusta, come curarla, quando trapiantarla e come concimarla. Insomma, sono tutti dei consigli pratici e semplici che molto spesso mi vengono chiesti dai clienti stessi, per cui diciamo che in questi video riassumo le risposte che do realmente quando andiamo a lavorare sugli spazi esterni. Per cui, se volete dei consigli appunto da un esperto semplici e pratici, seguiteci sul canale YouTube.